Consegnate durante questo fine settimana le bandiere blu 2019 agli stabilimenti balneari di Agropoli. Come risaputo la città di Agropoli ha confermato anche per il 2019 la bandiera blu per le spiagge e gli approdi. Sono 33 i criteri da rispettare per ottenere l'ambito riconoscimento i quali riguardano educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. La città di Agropoli è tra le più longeve essendo giunta quest'anno al ventesimo riconoscimento per le spiagge e il settimo per l'approdo turistico oltre alla spiaggia del Lungomare San Marco e della Baia di Trentova. L'importante vessillo sventolerà anche quest'anno sulla spiaggia della Marina presso il porto turistico. È sempre una bellissima giornata il giorno della consiglia della bandiera blu perché di fatto è il momento in cui possiamo rendersi conto del lavoro che abbiamo realizzato. Noi viene fuori questo lavoro da una sinergia tra amministrazione comunale, in questo caso stabilimenti balneari e cittadini perché tutti insieme diamo il risultato della bandiera blu perché i criteri che vengono assegnati non valutano soltanto le acque che sono di per sé bellissime, lo sappiamo, ma il lavoro che si fa insieme per tenere queste acque degne della loro bellezza. Questo lavoro anche quest'anno è stato premiato e il giudizio che noi facciamo di noi stessi molto spesso è fatto da coloro che vengono ogni anno a trovarci qui in città. I turisti che magari hanno qui la casa o che decidono un'altra volta di scegliere Agropoli per il loro luogo di vacanza e che ci raccontano sempre del fatto che la nostra città rimane sempre una cartolina bellissima da vivere e ci raccontano poi forse in maniera più oggettiva rispetto ai nostri cittadini che danno le cose per scondato invece le caratteristiche che noi riusciamo a dare, cioè la pulizia, l'ordine, l'accoglienza. Bene, proprio questi turisti ci raccontano del fatto che trovano tutte queste cartesime ad Agropoli, per questo tornano qui e di questi siamo felici ed orgogliosi. Allora lanciamo dei messaggi positivi, la città di Agropoli è una città bella, accogliente e la città giusta per poter venire qui in vacanza, quindi insieme lanciamo questi massaggi positivi e raccontiamo il bello della nostra città. Per Agropoli ormai è diventata una consuetudine quella di ricevere la bandiera blu, un importantissimo riconoscimento da parte della FE che non solo attesta la cristallinità delle nostre acque ma anche tantissimi servizi per i quali la nostra città è protagonista, non ultima la raccolta differenziata che ha raggiunto dei livelli eccezionali pari al 72-73%, quindi un ringraziamento va fatto ai cittadini per la preziosa opera di collaborazione ma anche agli uffici comunali che prestano il loro servizio e il loro lavoro affinché il comune possa ottenere questo importantissimo riconoscimento. Approfitto della vostra intervista per dire che tantissime sono ancora le cose da fare e tantissimi sono i miglioramenti da apportare, soprattutto per ciò che attiene lo spiaggiamento della Posidonia Oceanica. Insieme al comandante della Capitaneria di Porto di Agropoli, il comandante Cimmino ci siamo visti circa un mesetto fa e siamo venuti a conoscenza di una direttiva da parte del Ministero dell'Ambiente che prevede un eventuale riposizionamento della Posidonia spiaggiata direttamente in mare. C'è da capire ovviamente se questa direttiva riguarda soltanto la Posidonia spiaggiata o riguarda anche quella già accumulata, però già da settembre si avverrà un tavolo di concertazione tra il comune e gli enti preposti, ovvero l'ARPAC e nonché la Capitaneria di Porto e il Ministero dell'Ambiente per cercare di capire come ovviare a questa direttiva perché rispetto al passato dove non avevamo una legislazione che ci consentisse di operare in maniera diretta se non con un aumento indiscriminato delle tasse per portare la Posidonia in discarica, oggi perlomeno un piccolissimo passo avanti è stato fatto anche se siamo consapevoli che non sarà di semplice soluzione.